Il Comune dell'Aquila avrà un nuovo assetto organizzativo dal 1 gennaio del 2018, assetto illustrato oggi dal sindaco Pierluigi Biondi, accompagnato in conferenza da gran parte dei suoi assessori. Una macro struttura decentrata e con una forte razionalizzazione del lavoro e delle spese. I dipartimenti da tre diventeranno due, uno per i servizi al cittadino, che includerà l'area amministrativa e contabile, ed uno dedicato alla ricostruzione. All'interno dei settori ci saranno 21 posizioni organizzative e tre alte professionalità. Tra le posizioni organizzative, una si occuperà di semplificazione e creazione del disability manager, una della mobilità sostenibile in base alle politiche della comunità europea e una dell'inclusione sociale. Il settore bilancio sarà diviso, un'area bilancio e programmazione per razionalizzare le spese e valorizzare il patrimonio, e un'area si occuperà di equità tributaria, non solo tributi in sé, ma anche riscossione dei canoni derivanti dal progetto case MAP. La ricostruzione pubblica, altra novità, sarà scissa dalle opere pubbliche. La prima si dovrà occupare di scuole, cimiteri, smart city, sviluppo gran sasso e altri aspetti. La seconda, di manutenzione. Alle dirette dipendenze del sindaco vi sarà poi una struttura di raccordo istituzionale, che parlerà con uffici speciali, sovrintendenza, struttura di missione e altri attori. Saranno create due unità intersettoriali, una per progetti strategici e l'altra dedicata all'innovazione e alla digitalizzazione. Molto importante sarà il piano assunzionale. Innanzitutto, nove operai con contratti a tempo determinato saranno finalmente assunti. Il Comune assumerà anche un esperto di sismologia per gestire questi aspetti, due collaboratori per la gestione del protocollo e anche quattro vigili, visto che l'organico è sottodimensionato. Ma ci sarà anche una vera e propria riqualificazione del personale, con progressione verticale che non si faceva da anni, per valorizzare quei lavoratori che hanno dato tanto all'ente, non tanto per un aumento di stipendio, ma soprattutto dal punto di vista morale. Un progetto essenziale sarà anche quello della delegazione amica, che partirà con Paganica e Sassa. Molto del personale delle delegazioni, infatti, negli anni, è stato trasferito nell'ufficio di Via Roma. L'obiettivo è non spogliare, ma dare alle delegazioni più servizi, in modo tale da farli diventare dei veri e propri sportelli di supporto ai servizi demografici.